Adesso pomeriggio alle 4 e mezzo si riapre la commissione e io credo ci saranno aggiornamenti. 3 miliardi non so da dove è uscito, i numeri li renderemo noti appena che è tutto chiuso. C'è già all'interno di questa manovra una riduzione di spese di questo genere. Nel primo testo ci sono già 600 milioni di tagli di questo tipo. Quindi si procede verso questa riorganizzazione del bilancio. Io leggo le agenzie, le cose ufficiali come sa non si dicono con le agenzie ma con la chiusura dei lavori che sarà la commissione di domani. Un componente di questo governo vuole andare nella direzione peggiore per questo paese. Quindi siamo tutti convinti che si debba fare il massimo. Se c'è una cosa che le posso garantire è che il reddito di cittadinanza e il quota 100 non sono in discussione. Sono le misure per cui questo governo si è creato e formato. Quindi andiamo avanti. Pensate di direttori militari per coprire le buche di Roma? Genio civile. Speriamoci.